13 aprile 1827, la data spartiacque di quando la congrega dei nobili passò il testimone all'arci confraternita della Santissima Trinità per organizzare la processione del Venerdì Santo. Un viaggio storico documentale qui nella Cappella del Corpo di Cristo apre la settimana santa non solo dei trinitari ma anche la settimana santa sulmonese che ha un carattere identitario, viscerale e ancestrale. Ci sono i documenti, ci sono le foto d'archivio, c'è la medaglia sul tronco realizzato da Nicola Gizzi che compirà 100 anni il prossimo anno nel 2025, un primo atto di una settimana santa che come dicevamo segna il carattere identitario di una comunità. La volontà era quella di ricreare un ambiente che documentasse la storia di questa arci confraternita ma soprattutto anche i momenti salienti che i confratelli e le consorelle vivono soprattutto nella settimana santa. Ecco perché il titolo la settimana santa dei trinitari proprio per questo motivo ed è stata una riscoperta anche per noi per alcuni documenti storici che sono stati cercati, spulciati, redatti e messi esposti chiaramente in copia perché l'originale li teniamo ben custoditi. Proprio perché questa mostra fosse una mostra fotografica ma soprattutto documentale ed è stata curata da Marco, da Arnaldo, da Anna Sara, da Anna Rita e da Silvia che oggi loro due non ci sono però Marco e Arnaldo hanno lavorato forse più degli altri. Non è solo perché non la conosce ma anche per rafforzare quel legame viscerale e ancestrale che sul Monesi hanno con le proprie tradizioni. Esatto, l'obiettivo iniziale era proprio quello, oltre che dare uno stampo turistico per accontentare e far conoscere la nostra processione, la nostra città, le nostre tradizioni ai turisti. L'idea è stata proprio quella di voler raggiungere i sul Monesi e far capire loro l'importanza che entrambe le confraternite hanno per questa città. E comunque, come ripeto sempre anche a Bruno, è un onore e un onere far parte delle confraternite qui a Sulmona. Il nostro obiettivo, diciamo con molta umiltà, è stato proprio questo, cioè cercare di far capire cosa sono le confraternite, almeno cos'è l'Arciconfraternite della Santissima Trinità qui a Sulmona. Iniziamo oggi gli eventi che appunto caratterizzeranno e che ci porteranno poi alla processione del venerdì santo. Quest'anno abbiamo voluto riproporre, dopo un certo numero di anni, questa mostra, che è una mostra più che altro documentale, storica e fotografica, che permetta un po' ai turisti che affolleranno Sulmona di capire un po' quello che andiamo a fare, di avere anche degli elementi per poter meglio vivere la processione del venerdì santo. Un ricco programma, qualche novità e ovviamente poi gli appuntamenti canonici che appartengono al DNA della tradizione sulmonese. Come è strutturata questa settimana? Domani ci sarà il consueto, ormai da più di vent'anni, concerto della Domenica delle Palme di presentazione del coro. Poi lunedì ci sarà il tradizionale sorteggio, appunto per le statue, e martedì abbiamo programmato insieme al FAI una visita guidata nei luoghi dell'Arciconfraternite. Quindi si arriverà giovedì al rito dell'Eucarestia con la lavanda dei piedi, noi parteciperemo al rito a San Francesco della Scarpa, mentre venerdì ci sarà la processione. Poi c'è un appuntamento in più quest'anno perché ci riguarda ed è quello della partecipazione anche del coro del miserere a questa manifestazione di cori della zona che ha organizzato il Gildo di Marco e che appunto noi abbiamo ben volentieri voluto appoggiare, quindi un ricco programma diciamo. La Pasqua sulmona è una Pasqua particolare e sulmona a Pasqua vive un momento di grandissima tensione emotiva, di partecipazione. Oggi si inizia con questa, devo dire, lodevole iniziativa dell'Arciconfraternite Santissima Trinità che con questa mostra sia fotografica che documentale ricostruisce la storia dell'Arciconfraternite e anche la storia della processione del Venerdì Santo che il rito tradizionalmente ha segnato ai trinitari. Un bel momento anche questo di riflessione. Quale deve essere il senso cristiano, come deve essere visto? Sì, sul libro degli ospiti ho scritto, ho fatto questo augurio alla Compraternite, la passione di Gesù sia la vostra passione. Ecco che questa settimana santa dove contempliamo, ci accostiamo, celebriamo la passione di Gesù, questa passione possa imprimersi nel nostro cuore perché diventi la nostra passione per viverla in dono verso i fratelli, perché sia vissuta veramente guardando Gesù ma anche perché la nostra vita diventi appassionata, donata per i fratelli. Nel pomeriggio intanto il coro trenitario ha concesso il bis al borgo della valle del Sagittario Introdacqua per lo storico legame che lega l'Arciso Dalizio con il complesso bandistico. Nel pomeriggio intanto il coro trenitario ha concesso, Nel pomeriggio intanto il coro trenitario ha concesso, Nel pomeriggio intanto il coro trenitario ha concesso, Sì, 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 sì. Morbidi, morbidi. 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 Grazie.